tipo io posso pagare tutte le mie spese online, cioè la mia banca fide questa transazione online però lo Stato come Trump dice no, succederà un hacking e il risultato dei voti non sarà affidabile cioè preferiscono avere un processo di votare che non è online perché così la gente che è, la gioventù dice non vado a votare, non ha senso, è difficile escludi i genti sì 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 esatto ma gli algoritmi, quello che volevo dire è che gli algoritmi hanno la capacità di risolvere questi problemi dare trasparezza anche sui risultati dei voti e dare voce alla gente che non l'ha, per esempio, che l'ha fatto su YouTube per esempio la generazione di 2000, quelli che sono nati a 2000 non guardano tv più, cioè non sono controllati da...